Il prestigioso concorso mondial del Bruxelles dedica per la prima volta nella sua storia una sessione ufficiale ai vini dolci, licuorosi e fortificati. Ad ospitarla sarà Marsala, un risultato di straordinaria rilevanza e non soltanto per gli addetti ai lavori. Un fitto programma di degustazioni, masterclass, visite sul territorio e incontri che vedrà coinvolti oltre 50 giurati provenienti da 20 paesi e 525 vini provenienti da tutto il mondo. Per quattro giorni, a partire da martedì, oltre 50 giurati tra giornalisti, enologi, buyers e formatori provenienti da quattro continenti e di 20 nazionalità diverse saranno chiamati a valutare nella città di Betana i oltre 500 vini dolci, licuorosi e fortificati iscritti a questa speciale sessione del concorso mondial. Un record mai raggiunto in questa specifica tipologia di vino, numeri che riescono a sottolineare il successo di partecipazione che questa prima assoluta ha saputo rappresentare coinvolgendo produttori, territori e istituzioni di tanti paesi del vecchio e nuovo mondo. La tavola rotonda di avvio si terrà martedì alle 17.30 al complesso monumentale di San Pietro per poi proseguire mercoledì 21 con l'inaugurazione della prima sessione di degustazione a Baio Oneto. Giovedì 22 settembre spazio alla seconda sessione di degustazione e alla masterclass vini dolci naturali a cura di Robert Camuto, giornalista e autore. Il programma si concluderà venerdì 23 con la terza e ultima degustazione ufficiale del concorso. Marsala, grazie alle iniziative della Regione, dell'Irvo e delle principali denominazioni di tutela della Sicilia vitivinicola, ha saputo assicurare le condizioni migliori perché la candidatura della città andasse in porto. Il prestigio e la reputazione del concorso mondial di Bruxelles è tale da far accendere riflettori anche dell'informazione generalista e televisiva su Marsala. Rilevante ovviamente la presenza dei vini siciliani, da Marsala a Pantelleria, dalle Eolie a Note Siracusa e il patrimonio vitivinicolo della Sicilia metterà in campo storie produttive secolari di grande tradizione e di qualità. Dalla Marsala, nelle diverse tipologie, ai passiti di Pantelleria, dalle Malvasie, delle Lipari ai Moscati di Note Siracusa. Vini che hanno conosciuto grandi successi e affermazioni ma che oggi devono ritrovare un vissuto di contemporaneità e di scelta del consumatore. Grazie. Grazie.